una buona giornata a tutti voi oggi apriamo il nostro libro di letture per così dire con una serie dedicata alle icone quella particolare arte sviluppata segno l'oriente cristiano che ha voluto rappresentare in immagine la storia del dio che si fa uomo noi la confronteremo però anche con l'arte occidentale in particolare con le immagini della modernità la pittura moderna che sembra avere una particolare difficoltà a dipingere l'oggetto sacro perché perché viviamo in un tempo del tutto secolarizzato o per un più profondo mutamento del linguaggio lo chiederemo al nostro interlocutore immagini del dio vivente con enzo bianchi prima puntata l'icona della trinità e allora saluto subito enzo bianchi priore della comunità di bose buongiorno enzo bianchi buongiorno a tutti la sua è una voce lo sapete alla quale ricorriamo sia quando abbiamo bisogno di chiarezza per tante questioni legate alla spiritualità nel mondo contemporaneo tra l'altro voglio segnalare anche se non ce n'è bisogno perché ho visto che è altissimo nelle classifiche però quest'ultimo libro la differenza cristiana uscito da inaudi un piccolo libro come volume ma in cui ci sono tanti interventi di enzo bianchi alcuni dei quali ha fatto anche alcune riflessioni le abbiamo fatte anche insieme e comunque sono le sue riflessioni nel corso degli ultimi due anni forse ecco su laicità essenza del cristianesimo che cosa significa essere cristiani però enzo bianchi ricorriamo anche quando abbiamo delle questioni di fondo da da prendere in considerazione i fondamenti della fede cristiana ecco vogliamo affidargli questo tema delle icone per tanti motivi il primo dei quali credo che sia una sua predilezione amore passione per l'arte sì per tutta l'arte devo dire che io confesso che da giovane una delle cose che ho fatto è anche dipingere questo ha rappresentato una vera stagione della mia vita non è stato una cosa periferica almeno fino a quando sono diventato monaco e diventato monaco ho cominciato proprio in quegli anni 66 67 in cui bisogna dirlo le icone non erano non solo non conosciute ma non si diceva neanche il vocabolo icona io ho cominciato allora a studiarle ad ammirarle ma nello stesso tempo allora dipingerle per alcuni anni ho dipinto icone per cui io sento tutto il problema dell'arte ma in particolare devo dire l'arte raffigurativa e l'arte della pittura come qualcosa che fa parte delle mie fibre della mia storia per me è un evento di bellezza alla quale non potrei rinunciare fino ai grandi amori attuali di destal o di rotco ma passando attraverso tutte queste stagioni in cui ho cercato anche di vedere di delle tracce di dio delle tracce dell'invisibile nell'arte contemporanea e credo che questo cammino sia stato per me davvero significativo anche a livello della costruzione del mio cammino spirituale tra l'altro io ricordo Enzo Bianchi ecco Enzo Bianchi stava dicendo che da giovane ha dipinto delle icone alcune di queste affrescano qualche angolo del vostro monastero è vero? Qualcuna affresca l'angolo poche ma alcune invece sono ancora su tavola in legno e sono per me certo è 30 anni e più che io non dipingo più ma sono un momento significativo che fa sì che le icone l'arte la pittura facciano davvero parte del mio itinerario spirituale e devo anche confessare che il mio sogno è appena potrò ritrarmi un po' di nuovo ritornare a quella pittura d'olio a spatola che per me è stato davvero una lunga stagione della mia giovinezza non un periodo breve e non posso dire neanche una specie di hobby intanto noi aspettiamo questa sua nuova stagione e poi ecco lei ha già detto citato due volte la bellezza io ricordo che dalla bellezza siamo partiti proprio in una delle prime lunghe conversazioni che abbiamo avuto perché appunto ero colpita dalla bellezza che si respirava nel monastero e lei disse più o meno che la bellezza fa parte della vita umana e dunque anche della vita del credente e se il credente non sa esprimere anche questo c'è qualche problema anche relativo alla sua fede vero secondo me sì perché la bellezza è davvero l'opera il capolavoro come si dice che gli uomini riescono a fare ma che riescono a fare in tanti eventi della loro vita certo poi quando si accende la bellezza nell'opera d'arte questa è una celebrazione di ciò che è esistenziale di ciò che è vissuto non può essere diversamente e forse in qualche misura anche chi contempla chi ammira l'opera d'arte o è sensibile all'evento della bellezza o in qualche misura non è capace di leggere l'opera d'arte non ne ha la possibilità né di un'ermeneutica e neppure di un godimento di una contemplazione forse c'è molto desiderio ecco negli occhi di tutte queste persone che si recano a vedere queste mostre ecco il desiderio quello c'è poi forse manca anche l'educazione a capire ma oggi c'è desiderio di bellezza perché c'è molta bruttezza che coglie la vita degli uomini credo almeno io penso di dire senza nessuna vena pessimistica che gli ultimi 15-20 anni sono stati un degrado sono stati un'emergenza della bruttezza nella vita stessa delle persone nel vissuto come dicevo nell'esistenziale di conseguenza poi la bruttezza ci ha invaso per cui gli uomini oggi vanno a queste mostre poi certamente non so fino a che punto siano in grado di comprenderle ma insomma la bellezza dovrebbe nutrire molto di più l'opera d'arte è una forma di cibo per le nostre vite chi non si nutre di arte non riesce neanche poi a vivere di bellezza e di tutta la bellezza per cui manca una grammatica oggi di comprensione questo lo si paga in mille maniere molte opere contemporanee non sono più capite se noi vogliamo la stessa incapacità dei credenti a vedere dell'invisibile qualcosa che racconti la fede che racconti il sacro nelle opere moderne solo perché è venuta meno l'immagine mostra davvero che c'è una rozzezza e una incapacità ad accostarsi all'opera d'arte e questo secondo me è un impoverimento per tutti ecco allora vedere l'invisibile questo è in gioco nell'opera d'arte tanto più nell'opera d'arte sacra e tanto più in quella forma particolare di arte sacra che è l'arte dell'icona allora poi se avremo tempo vedremo anche un pochino di storia ma noi sappiamo che naturalmente intorno all'icone si è scatenata una lotta durata poi secoli e anche con un certo fondamento che cosa era in gioco in quei primi secoli cristiani nel voler raffigurare nell'icone l'immagine del Dio vivente appunto l'immagine del Cristo e della storia del Vangelo ma quando il cristianesimo è passato nel mondo dei pagani nel mondo greco quasi naturalmente si è tentata una rappresentazione di quella nuova fede per cui noi troviamo all'interno dei monumenti, segni artistici, catacombe più antiche insomma quella che viene chiamata l'arte paleocristiana vediamo fiorire il tentativo di rappresentare i misteri cristiani o perlomeno i simboli cristiani si è partito dalla croce, dal pesce, la vigna, la colomba, la coppa eucaristica ma poi si è sentito il bisogno di raffigurare il buon pastore alcuni episodi dell'Antico Testamento, alcuni personaggi come Mosè alcuni episodi del nuovo, la moltiplicazione dei panni, l'ultima cena e nei primi tre secoli delle persecuzioni questa è stata l'unica possibilità del fiorire, del crearsi di un'arte cristiana poi invece nel IV secolo con la cristianità con l'impero non più persecutore ma addirittura cristiano allora il cristianesimo ha mostrato tutta la sua capacità ispiratrice nell'arte sia a livello di scultura, sia a livello di pittura, sia a livello di mosaico però ben presto, a partire dal VII secolo in qualche misura si ha una specie di reazione una reazione dovuta con ogni probabilità anche all'emergere del mondo musulmano che muoveva una critica serrata alle immagini con una lettura molto, come potremmo dire, letterale del comandamento tu non ti farai nessuna immagine di ciò che è in cielo e di ciò che è in terra allora noi abbiamo nel VII secolo una reazione che va sotto il nome di lotta iconoclastica come dice il termine, di lotta contro le immagini quindi quello che si temeva era un culto delle immagini invece che il culto di Dio? si temeva l'idolo, si temeva in qualche misura la rappresentazione del divino quindi un ritorno al paganesimo si temeva in qualche misura che gli uomini avessero bisogno assolutamente di rappresentare Dio altrimenti la loro fede non sarebbe stata una fede vera e certamente alcune istanze di queste proposizioni venivano dai padri della Chiesa non dimentichiamolo alcuni padri avevano diffidenza verso le immagini senza attorno a questo aver costruito una teologia invece le posizioni all'interno del VII secolo diventano posizioni estremamente reazionarie di fronte alle icone, di fronte alle immagini di Dio, di Cristo, dei Santi e soprattutto sotto un imperatore, Leone III, imperatore a Costantinopoli c'è uno scatenarsi vero e proprio una persecuzione contro quelli che volevano mantenere l'immagine all'interno del cristianesimo ma anche una persecuzione contro le immagini stesse che ha rappresentato una distruzione un abbattimento di molte raffigurazioni un disprezzo terribile si è arrivati poi a un certo punto a dei sinodi allora sinodi concili che avvenivano in Oriente, in Occidente a volte ambigui a volte in qualche misura dei sinodi eretici potremmo dire come quello di Eria così ricordato in cui a un certo punto si dice che l'unica raffigurazione di Cristo è quella data dalle scritture e dall'Eucaristia ecco poi invece però la Chiesa e va detto in questo ha avuto grande peso il papato in Occidente la Chiesa tutta si è riuscita a esprimere nel concilio di Nicea del 787 dicendo la legittimità delle immagini dicendo certo che l'immagine del Dio invisibile non deve assolutamente essere realizzata perché è impossibile Dio resta inconoscibile, ineffabile ma Gesù Cristo è stato uomo e dunque nella logica dell'incarnazione se Lui ha preso un volto umano questo volto umano poteva essere raffigurato e se i cristiani, i santi, nella loro carne avevano vissuto il Vangelo avevano avuto un processo di santificazione allora anche i loro volti potevano riapparire come immagini memoria di un'azione dello Spirito su di loro memoria dell'incarnazione ecco qui ci sono varie considerazioni interessanti che vengono fuori allora primo, come lei ha detto, non si tratta di rappresentare l'invisibile è bella la domanda di Giovanni Damasceno come potremmo raffigurare l'invisibile ecco quindi non si tratta Dio rimane invisibile si raffigura ciò che si è fatto carne ciò che si è fatto visibile ecco qui ci sono delle cose che secondo me che vorrei che lei sottolineasse da una parte allora il legame tra lo spirituale e il materiale e il corporeo dall'altra queste icone che poi come vedremo sono soprattutto icone di volti emerge una specie di teologia del volto naturalmente prefigurando Levinas che verrà molti secoli dopo l'ebreo Levinas che appunto elaborano sulla teologia del volto cioè da un lato i cristiani vogliono affermare che Dio si è fatto uomo in Gesù Cristo ha preso la carne e quella carne si è espressa in un volto umano in un corpo umano quindi Cristo può essere rappresentato d'altra parte attenzione Dio no perché Dio resta invisibile Gesù Cristo ci ha narrato Dio ci ha narrato il Padre ma nessuno ha mai visto Dio e nessuno può vederlo al di qua della morte quindi rimane una via apofatica apofatica su Dio ma che lascia raccontare Dio attraverso la carne di Gesù Cristo e di tutti i Santi questa è la grande intuizione secondo me che la Chiesa ha avuto nel difendere le immagini e di conseguenza ciò che più narra questa trasfigurazione operata dallo spirito nelle vite degli uomini questo primato della grazia su quello che può essere la storia del peccato di ognuno questo è dato soprattutto dal volto e allora nelle icone il primato ce l'ha questo volto è significativo che è un volto sempre frontale nelle icone non c'è mai il profilo anzi il profilo viene usato eventualmente per figure negative come Giuda nell'ultima cena che è preso di profilo ma gli altri mostrano il volto perché in qualche misura mostrano il tu in cui il credente deve rispecchiarsi e con il quale c'è una vera e propria relazione così che contemplando l'esempio il paradigma uno venga in qualche misura trascinato, attirato trasformato in quella stessa immagine la trasformazione è l'obiettivo della pittura di icone e tra l'altro l'abbiamo detto altre volte dipingere icone non è semplicemente un fatto artistico è già uno scandalo che le icone siano in un museo ma è un atto di preghiera prima di tutto è un atto di scrittura è significativo che il vocabolario usato dagli iconografi indica io ho scritto un'icona non io ho dipinto un'icona perché bisogna essere chiari noi in occidente soprattutto a partire anche dalla conoscenza e dalla relazione che abbiamo con l'ebraismo negli ultimi tempi abbiamo effettivamente dato molta importanza all'ascolto ed è vero che nella Bibbia c'è un primato dell'ascolto però dobbiamo anche essere onesti più volte nella Bibbia chi ascolta ha una visione non è vero che la visione non ha nessun significato anzi oseremmo dire che all'interno della Bibbia alcuni vedono altri ascoltano alcuni ascoltano mentre hanno una visione la teofania il Dio che appare il Dio che si manifesta si manifesta con delle immagini si manifesta con la parola noi siamo diventati oserei dire troppo induriti su questo primato dell'ascolto quasi in contrapposizione al mondo greco certamente il mondo greco diceva tutti vanno dietro all'immagine perché l'immagine è molto più veritiera dell'ascolto l'ascolto chiede un'interpretazione l'immagine quasi legge la realtà non è vero in ogni caso noi interpretiamo nell'ascolto e nella visione allora è stato importante nel cristianesimo questo fiorire accanto all'ascolto della visione della contemplazione per cui guardare un'immagine di Cristo è un po' come ascoltare le scritture e non semplicemente come si dice si è detto a lungo in occidente che le raffigurazioni sono per i poveri per cui tutto ciò che è raffigurato in una chiesa è la Biblia pauperum la Bibbia per i poveri non è vero perché io credo che di fronte a un a un duccio insomma si poteva il semplice e magari il non erudito cristiano tranne insegnamento ma anche chi è raffinatissimo nella cultura quindi dobbiamo uscire da questo dualismo da questa contrapposizione ascolto e visione sono tutte due vie in qualche misura per arrivare a una maggior conoscenza di Dio delle realtà invisibili e perché noi esercitandoci sia nell'ascolto che nella visione siamo noi trasformati perché la parola ci trasforma ma anche l'immagine ci trasforma e questo è un processo importante il cristianesimo l'ha sentito come processo di trasfigurazione e non a caso poi il mistero la festa della trasfigurazione è diventato così centrale e importante nella vita degli iconografi e al cuore oserei dire della disciplina e della scrittura dell'opera d'arte ecco noi però oggi invece cominciamo da un'altra icona poi verremo anche a quella della trasfigurazione cominciamo anche perché forse è la più celebre quella che è più davanti agli occhi di tutti l'icona della trinità di Andrei Rublioff di Andrei Rublioff abbiamo parlato due sabati fa a proposito di Tarkovsky pittore di icone vissuto nella Russia fra il 300 e il 400 allievo di Teofane il greco ecco di Rublioff si racconta che stesse a lungo in contemplazione delle icone prima di dipingere lui stesso però ecco veniamo a questa trinità intanto bisogna dire che noi in questa serie di puntate abbiamo scelto di fermarci soprattutto sulle icone che hanno a che fare con le feste liturgiche noi abbiamo la festa del Natale Gesù che nasce in una grotta da Maria l'Oriente non ha questa festa ha una festa molto più significativa che la chiamano non a caso teofania manifestazione di Dio manifestazione di Dio che è avvenuta sì oserei dire dossologicamente a Betlemme certamente nella grotta ma che è avvenuta nell'adorazione dei magi e che è avvenuta addirittura nel battesimo di Gesù al Giordano cioè la grande festa per il mondo orientale è quando appare il Padre il Figlio e lo Spirito Santo come nel battesimo di Gesù allora il Padre dà la sua voce lo Spirito scende come colomba il Cristo è battezzato ecco la Trinità diventa davvero il mistero che sta dietro anche i misteri della vita di Gesù Cristo stesso sempre cominciamo a Lorenzo Bianchi a descrivere e a raccontare come Rubliof ha dipinto questa Trinità che è un monaco che vive in comunità che sono fortemente toccate dalla spazio spiritualità di San Sergio di Radonietz quest'uomo che ha avuto una chiaroveggenza oserei dire una consapevolezza del ministero trinitario profondissima che poi certamente era già dell'Oriente ma è impregnato in modo particolare tutta la spiritualità russa Rubliof aveva conosciuto già un'icona della Trinità riportata da Teofa nel greco e già presente nel mondo bizantino dei tre angeli che avevano visitato Abramo e non a caso nell'icona greca i tre angeli sono seduti a tavola al querceto di Mamre e c'è normalmente Abramo e sua moglie Sara Abramo che appresta il pranzo Sara anche lei la quale appresta il cibo e sono indubbiamente una rappresentazione di ciò che Gerolamo aveva interpretato come Trinità Gerolamo quando traduce in latino Genesi 18 la visita dei tre uomini i tre angeli ad Abramo lui traduce che Abramo tres vidit unum adoravit ne vide tre ne adorò uno però non è un po' una forzatura interpretata certamente ma è una forzatura di accrescimento teologico certamente la si presta il brano di Genesi 18 perché sono tre uomini per ognuno parla poi a questi tre Abramo si rivolge con un tu al singolare parlano al tu insomma c'era l'ambiguità possibile per dire che c'è un mistero della Trinità ecco la creatività di Rublio e avere a un certo punto dato di questi tre uomini tre angeli che visitano Abramo una situazione invece colta nell'eternità allora una breve descrizione questa la possiamo fare questi tre angeli seduti sono tre angeli che stanno attorno a una tavola sono scomparsi Abramo e Sara che li hanno accolti c'è ancora il quadro dell'evento perché c'è la tavola prestata c'è una pianta dietro che indica in qualche misura il querceto di Mamre dietro ciascuno di loro c'è dietro uno c'è un edificio dietro un altro c'è la quercia e poi una roccia lo possiamo commentare ma i tre stanno in un cerchio questa è la cosa da cogliere in un cerchio perfetto quasi a dire quella che i grandi teologi dicevano il cerchio trinitario il movimento circolare della trinità in cui padre figlio e spirito santo stanno in posizione di perfetta ugualianza tra di loro ecco solo una notazione cioè questa circolarità che lei dice va anche spiegato che c'è una geometria sottesa al disegno alla costruzione delle icone in ciascuna molto particolare è fatta di varie e diverse anche prospettive qui il cerchio è reso molto evidente come lei dice perché le tre teste le tre figure in modo perfetto a partire dalle tre teste fino ai piedi attraverso il corpo curvato sia del personaggio di sinistra che del personaggio di destra anche le mani e gli occhi gli sguardi sembrano dialogare tra loro sì e vedremo sono in qualche misura lì c'è un movimento perfetto perché poi tutto questo vi dicevo è un movimento circolare ma nello stesso tempo ha un inizio ha un inizio nel personaggio da quello che noi vediamo a sinistra non a caso è il personaggio che in qualche misura pur nella circolarità che garantisce a tutti l'uguaglianza però si vede come se da lui ci fosse un partire un inizio degli sguardi quindi questo è il padre il quale in qualche misura dà inizio al movimento trinitario e non a caso i suoi vestiti sono di un rosa orato sull'azzurro per dire la sua piena qualità spirituale il padre è celeste il padre è puro spirito il padre ha la pienezza della regalità di dio della signoralità ecco lui è quello che sembra dominare tutto il movimento tra l'altro adesso vediamo anche le due le altre due figure ma va detto come si può vedere in una buona riproduzione come queste vesti abbiano dei colori di una luce trasparente quasi il padre appunto ha questo vestito lilla orato ma che lascia trasparire la veste azzurra la veste dello spirituale che vi è sotto ecco il figlio poi ecco al centro il figlio straordinario il quale guarda il padre dipende dal padre in qualche misura tutto il suo sguadro è concentrato su di lui in ascolto del padre come direbbe l'evangelista giovanni ha la stola sacerdotale che porta sul suo braccio e discende nello stesso tempo c'è i colori il blu come il padre del mantello che è la sua qualità divina la sua qualità spirituale e poi però il suo vestito che è di un rosso terra scuro che indica la sua qualità umana e lui attenzione pone il braccio su quell'altare su quella su quella alla mano più vicina alla coppa vicino alla coppa che la sta benedicendo ma posa la mano su quell'altare che indica la terra è un rettangolo che indica la terra tra l'altro Enzo Bianchi la coppa qui risulta vuota però invece anticamente era piena il mistero della coppa è un mistero grande col quale io ho anche avuto alcune avventure di interpretazione perché questa coppa ha al suo centro un materiale di un rosso cupo certamente indica il vino indica il sangue indica la coppa eucaristica e tuttavia così come si presenta per molti sembra la testa di un agnello perché effettivamente non è solo una coppa riempita di sangue c'è un disegno dentro un agnello ma si intravede quasi un volto umano e io proprio a partire dal volto umano amo pensare che questa macchia nella coppa indica il servo è il volto del servo cioè il mistero che medita la triunità di Dio è questo servo che è la vicenda dell'incarnazione la vicenda della sua morte cruenta della vita offerta nel sangue dell'alleanza ma che è il sangue del servo dato per le moltitudini il figlio in sostanza sembra dire al padre io acconsento al sacrificio acconsento a questa morte di cui la coppa è sintesi ed è rivelazione ecco poi alla destra c'è l'altra figura che è lo spirito va detto che tutti e tre tengono in mano un sottile scettro un sottile scettro che è lo scettro della loro chirialità sono signori sono Dio ma è bellissimo lo spirito anche lui col manto come il padre azzurro che indica la non materialità dello spirito però il suo vestito verde simbolo di speranza è lui che tocca tangentalmente la terra la tavola perché lui ha aspirato sulla terra è stato effuso sulla terra non si è posato come Cristo che pone il braccio sulla terra e poi il suo volto giovanile lo spirito che è sempre spirito che ridà la giovinezza che rinnova tutte le cose e dietro a lui allora sì la cima la cima di un monte perché lo spirito è qualcosa che ci porta alle cime dei monti così come dietro Cristo l'albero l'albero del querceto diventa l'albero della vita la croce e dietro il padre c'è quella costruzione la creazione una casa ciò che è l'opera dell'uomo senta Enzo Bianchi allora adesso poi faremo un raffronto anche con lo stesso tema come viene trattato in occidente però qui che idea della Trinità viene fuori queste figure identiche e diverse questa icona potremmo stare ore e ore a commentarla perché indubbiamente è più di un trattato di teologia perché ci dice innanzitutto il mistero della Trinità in quelle verità che la Chiesa sempre ha proclamato nei secoli cioè innanzitutto che noi abbiamo un solo Dio è uno è uno solo è un cerchio c'è un'unica vita qui e all'interno del cerchio c'è la manifestazione di un Dio ma che ha tre volti il volto del padre del figlio dello Spirito Santo tre volti diversi l'unità assicura la pluralità l'unità garantisce la diversità la comunione che c'è tra loro negli sguardi è una comunione che è davvero un circolo di vita un flusso di vita c'è una concordanza del figlio dello Spirito Santo verso il padre il padre da inizio a questo movimento il padre accoglie il figlio il padre accoglie lo Spirito Santo ma poi c'è una forma di accoglienza reciproca per cui ciò che davvero è il mistero del Dio cristiano un Dio uno ma che è una comunità di amore un Dio unico ma nel quale c'è la diversità dei volti padre, figlio e Spirito Santo noi diciamo diversità delle persone un Dio unico ma nel quale c'è una piena comunione di intenti e di amore l'icona di Rubliofono sa esprimere io credo che soprattutto per questo che questa icona ha avuto davvero una dilatazione un'espansione a partire dagli anni sessanta che meraviglia ormai non c'è chiesa chiese della riforma chiesa cattolica che non abbia questa icona e che non l'abbia in qualche misura messa al centro della liturgia al centro di quello che può essere una lettura di Dio ecco facciamo Enzo Bianchi una rapida incursione invece nell'Occidente la trinità naturalmente è stata raffigurata anche nell'arte sacro occidentale andrebbe spiegato magari lo facciamo la prossima volta che cosa intendiamo con arte sacra perché in realtà già questa espressione fa problema ecco noi abbiamo anche qui tantissime raffigurazioni dalla trinità del masaccio a quella stupenda anche del tintoretto che cosa c'è di così diverso lo vediamo subito le persone sono diverse ma c'è anche un senso sotterraneo che è differente ma oserei dire che contemplando una trinità dell'Oriente cristiano e una trinità dell'Occidente cattolico essenzialmente possiamo capire tutta la differenza ma anche tutta l'unità tra questi due polmoni che hanno espresso la fede cristiana ecco noi abbiamo visto nell'Oriente la contemplazione della trinità che è contemplazione di tre angeli tre angeli che sì in quel momento si sono manifestati ad Abramo e ne sono restati i segni il querceto la montagna la casa la tavola però i tre angeli sono contemplati nella gloria eterna fuori dal tempo proprio come potremmo contemplare per quanto è possibile il nostro Dio dicendolo uno ma nella la trinità dei volti delle persone l'Occidente no l'Occidente non ha questa visione contemplativa beata soprattutto ha una come dire un desiderio di concretezza ti mostro il padre ti mostro il figlio ti mostro la colomba che è lo spirito sì in qualche realismo l'Occidente non riesce a contemplare la trinità fuori dalla storia questa è la differenza per cui quando noi occidentali pensiamo la trinità siamo obbligati a pensare nella storia e l'arte ha detto molto prima un millennio prima almeno quello che hanno detto i grandi teologi del secolo scorso penso a Moltmann penso a Metz a tanti altri in cui dicevano a partire da una comprensione di Lutero ma Lutero è uno oserei dire dei battiti forti del cuore occidentale che la croce narra la trinità ecco allora noi occidentali la trinità l'abbiamo sempre raffigurata sulla croce cioè ci è impossibile pensare la trinità fuori dalla storia e allora sia nel Masaccio sia nel Tintoretto sia in tutte le altre trinità del periodo che va tra il mille a grandi linee e poi l'arte contemporanea noi abbiamo sempre il figlio in croce o comunque il figlio tra le braccia del padre il padre che è un vecchio barbuto il quale sostiene il figlio lo abbraccia e tra il padre e il figlio per dire la relazione l'amore la compassione la colomba dello Spirito Santo noi siamo abituati a questa visione ma insomma la visione che è la croce che narra la trinità ecco però per esempio questo Tintoretto è straordinario perché c'è come un punto di fuga cioè è una prospettiva stranissima c'è un punto di fuga tra la testa del figlio il corpo del padre e la colomba al centro che effettivamente ti dà l'idea di un elemento abissale alcuna volte potremmo dire che è una pietà paterna noi in occidente abbiamo conosciuto più volte Maria che tiene il corpo morto di Cristo basti pensare alla pietà di Michelangelo però in occidente noi abbiamo sentito bisogno di sentire anche pur chiamando la trinità la pietà del padre come nel caso del Masaccio ma di tante altre pietà soprattutto nordiche germaniche in cui è il padre che tiene e anche basterebbe pensare soprattutto è il greco una straordinaria di nuovo trinità in cui il padre tiene sulle ginocchia come Maria normalmente nelle nostre pietà tiene il figlio poi però memori di questa tenerezza ma una tenerezza a prezzo della croce in altre pietà quasi per dire lo iato che c'è stato la distanza tra il padre e il figlio nella morte per cui Gesù ha potuto dire Dio mio Dio mio perché mi hai abbandonato e poi ha consegnato lo spirito c'è proprio la colomba che a volte segna la comunicazione la vicinanza l'amore del padre e del figlio e altre volte ne segna invece la distanza la frattura la frattura ecco per noi la Trinità non sta senza la croce invece per l'Oriente la Trinità è quella eterna è quella che noi contempleremo sempre e non porta il peso della storia né porta il prezzo della croce ma noi occidentali non siamo capaci a pensare Dio senza la croce in lui senza la passione del figlio in lui senza in qual misura affermare che Dio è un Dio di compassione è un Dio che ha sofferto dunque Enzo Bianchi siamo arrivati al mondo contemporaneo che abbiamo promesso abbiamo soltanto pochi minuti magari la prossima volta ricominciamo proprio da qui e è evidente a tutti che c'è non solo una difficoltà ma proprio come dire una vera frattura questa sì perché nel mondo contemporaneo alcune raffigurazioni non ci sono oppure sono pochissime come per esempio quella della Trinità allora la croce sì è rimasta e poi vedremo forse di parlarne quando arriveremo alla croce ma a che cosa è dovuto non c'è più questo linguaggio ovvio viviamo in un mondo che non ha più bisogno di questo però dove sono andati a finire allora tutte le cose che lei ci ha raccontato descritte dentro le Trinità sia d'Oriente che d'Occidente ma nel nostro mondo si sono verificati a livello della fede a livello religioso alcune differenze la prima è che certamente il mistero della morte del Signore è un mistero che noi abbiamo abbiamo sentito abbiamo vissuto come morte in solidarietà con tutte le vittime con i grandi genocidi a noi occidentali è sempre stato difficile ma sarebbe impossibile pensare a una contemplazione della Trinità di Dio nell'eternità come ha potuto fare l'Oriente ha potuto fare Rublio in qualche misura è significativo che Chagall forse l'unico che ha rappresentato la Trinità è tornato a rappresentarla con i tre angeli in visita ad Abramo mettendo di nuovo Abramo e Sara quindi quasi indicando un nuovo inizio per la comprensione ma poi io credo che c'è un altro problema cioè noi diamo molta più importanza oggi a Gesù al Gesù uomo il Gesù che nella sua vita umana ha narrato Dio e di conseguenza noi affermiamo Dio attraverso Gesù c'è molto più difficile parlare di Dio in astratto senza Gesù noi in Occidente ormai noi cristiani Dio è affermabile nella misura in cui Gesù ce lo ha raccontato ce lo ha narrato allora con una vita umana e fino alla morte alla morte in croce per cui la Trinità in qualche misura non è più dicibile raccontabile a livello figurativo io credo che bisogna pigliarsi un serio questo non dimentichiamoci che il concilio di Mosca ortodosso una cosa che pochi sanno ma è stato un concilio determinante ha indicato la scomunica per quelli che rappresentano il padre è stato un concilio molto importante il padre non è rappresentabile come si diceva nel primo millennio è solo rappresentabile rappresentabile il figlio non il padre non lo spirito santo perché non hanno mai preso carne non si sono incarnati torniamo al discorso iniziale di conseguenza anche quel divieto dato dal concilio di Mosca secondo me è molto significativo perché nasce all'alba del ventesimo secolo quasi per dire attenzione noi Dio ormai non lo conosciamo più nel suo abisso di eternità di gloria lo possiamo soltanto capire attraverso quella che è stata la kenosis lo svuotamento sì però da un lato va detto che non c'è più l'arte sacra cioè non c'è più raffigurazione di quella storia del Dio vivente tranne appunto il crocifisso ma proprio perché è umano e dall'altra forse non c'è più quel linguaggio io credo di più che non c'è più quel linguaggio da un lato certamente si sono sfocate all'orizzonte le immagini del Dio in sé del Dio come oggetto di contemplazione dell'uomo noi oggi siamo convinti noi cristiani raggiungiamo Dio solo attraverso Gesù Cristo Dio non è più imposto dalla filosofia dal pensiero dalla teologia regnante quindi non ci poniamo né più il problema se Dio sia rappresentabile o no non solo non lo rappresentiamo ma non ci poniamo neppure il problema diciamo subito no per cui indubbiamente Dio Padre e lo Spirito Santo sono scomparsi ci resta appunto il figlio in tutta la tragedia di un uomo nella storia degli uomini ecco forse ci restano anche altre cose ma magari che appunto sono frammenti magari la prossima volta ricominciamo da qui dal contemporaneo così vedremo di affrontarlo meglio e comunque la prossima volta parleremo della Trinità io ringrazio molto Enzo Bianchi arrivederci a tutti mai dimenticando che se l'arte ha dimenticato la raffigurazione della Trinità non ha dimenticato mai di raffigurare l'invisibile e il divino e tra l'altro però voglio ricordare agli ascoltatori che queste puntate come tutte quelle delle nostre letture si possono scaricare in formato mp3 dal nostro sito www.uominieprofeti.rai.it ringrazio naturalmente la nostra curatrice che è Francesca Levi Elena Paba che ci sta aiutando in queste settimane Cristiana Munzi per la consulenza musicale Anna Colia che ci aiuta in redazione i nostri indirizzi via Siago 10 00195 Roma uominieprofeti chiocciolarai.it grazie a Gabriella Caramore a Gabriella Caramore a Gabriella Caramore